Io non mi sento un assassino, non mi sento bene comunque perché alla fine è sempre una persona, era una persona. Però ripeto, non è che l'ho fatto per farglielo, l'ho fatto perché mi ha costretto a farlo. Omicidio volontario è questa adesso la pesantissima accusa per Sandro Mugnai, l'aretino che sparò al vicino che gli stava demolendo la casa con una ruspa, uccidendolo. Dicono, dicono, ma bisogna trovarci se ne posti per vedere le cose, come sono andate e come è toccato reagire per cercare di salvarsi. La tragedia nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2023 a San Polo, Mugnai era a cena con la famiglia quando il vicino Gesim Dodoli con un escavatore cominciò a colpire l'abitazione. Mugnai imbracciò il fucile e sparò i primi due colpi ma il vicino non si fermò. Si è sentito le botte in fondo, mio fratello ha aperto il porto e ha detto, ma qui dice, ha buttato tutta la tettoia della cosa, della roba. Anzi, prima aveva detto che si era affacciata alla finestra, dice, ha bello scacciato tutte le macchine, ci ha ammucciato tutte le macchine. Torno qua e poi aveva iniziato a picchiare nella casa come in cosa così che. Lui provò a scendere, arrivò a fondo alle scale e gli diede un'altra ruspata sulla porta lì, che poi non si vede più, ma sulle foto vecchie si vede i segni della ruspa. Gli fece cadere tutto addosso, ogni cosa, torno su. Si provò a bersciargli dalla finestra in tutti i modi, a gesti, a urli, niente. E poi gli ho detto, a metà alla fine toccò a difendermi perché il tetto del giallo ha ben tirato su tutto. La parete l'aveva sfondata, l'aveva tornata iniziato per ripartire, sicché io ho detto, provai a sparare in terra, manco avevo detto niente a nessuno. Quando lui dopo continuava a procedere, mi è toccato cercare di fermarlo. Di cosa avevate paura voi? Nella nostra vita si è avuto paura perché, indubbiamente, se ti cade da su dentro, non è che si trova bene lì sotto. Io ho sempre detto, se io arrivavo qui, dalla strada, che lo trovavo qui, faccia casinale, giravo la macchina, me ne andavo. Perché tanto poi ci sarà chi del dovere che penserà a fare le cose. Cosa pensa oggi quando ripensa quella notte, quello che è accaduto? Penso, penso il motivo perché è stata fatta questa cosa, perché ha fatto questa cosa. Io nel mio piccolo ho sempre cercato di aiutarlo, perché ho potuto fare, glielo ho fatto. Qui è che mi ha chiesto in qualche modo, se c'è il caso di farlo, poi ha deciso di fare questa cosa, non lo so perché. Non so perché. Secondo il giudice Claudio Lara, la reazione dell'artigiano non sarebbe stata però proporzionale alla situazione di pericolo e quindi non può essere invocata la legittima difesa. Gli atti erano tornati alla procura, che adesso ha riformulato il capo di imputazione. Il processo adesso riparte da zero, da fissare la prima udienza. L'omicidio volontario significa l'intenzione e la volontà di uccidere. Se questo è il caso, sfido molti dei miei colleghi a ritenerlo tale. Poi il giudice ha ritenuto in questa maniera e noi ci difenderemo in tutte le sedi. Non è che ci difenderemo in primo grado, ma arriveremo in Cassazione anche oltre se fosse necessario. Speriamo non lo sia. Spero che nella giustizia, che venga fatta la giustizia per davvero e che capiscano le azioni che sono state fatte per i motivi che sono state fatte.